La birra di qualità scorre ai piedi della Rocca. Dal 23 al 25 giugno, grazie a Urbeer Festival, nel centro storico di Urbisaia si potranno degustare oltre 30 tipologie di birra la spina, selezionate fra i migliori produttori artigianali nazionali e locali. Un appuntamento promosso dalla Proloco di Urbisaia in collaborazione con il Comune per favorire il rilancio economico dell'attività del territorio e riscoprire la bellezza della città, come spiega il sindaco Paolo Francesco Giubileo. È un modo anche per rilanciare i nostri territori dopo il sisma, quindi un'ottima occasione, una festa, una bella festa improntata su prodotti di qualità, la birra nello specifico, quindi io invito a venirci a trovare, non solo per riscoprire, come dicevo, la birra, fatta anche in modo artigianale, quindi da un'azienda del luogo, ma anche per venire a visitare questo splendido paese che, nonostante il terremoto, sta andando avanti e proprio questa è un'occasione per venire a trovarci. È un incontro con i prodotti della nostra gastronomia, tipicamente della birra di produzione locale per dare spazio ad un'attività economica emergente qui nel territorio, che è quella della produzione appunto della birra locale o birra agricola e seguire la filiera della produzione sia agricola delle materie prime che della nostra trasformazione. Urbisaia sarà per tre giorni la capitale delle birre artigianali, capitanate dall'azienda Il Mastio, con la presenza di molteplici realtà dello street food e il tutto animato dalla musica live di gruppi emergenti del maceratese. Oltre ad appuntamenti culturali di settore dedicati agli appassionati e non solo. Stiamo puntando sulla qualità e la bevuta consapevole, quindi andare a bere prodotti di qualità sia locali che anche italiani. Al festival saranno presenti molti birrifici, sia fisicamente che con birre ospitate presso il nostro stand, sempre birre artigianali di qualità diciamo, quindi penso sia un'ottima iniziativa da parte sia nostra che di tutte le altre aziende locali che hanno partecipato sia Urbisaia e l'amministrazione che ci ha dato la possibilità poi di far conoscere ancora di più tutti i nostri prodotti. La birra artigianale sicuramente è sinonimo di qualità per quello che riguarda al 100% le materie prime, esempio noi stiamo facendo un percorso che attualmente abbiamo proprio messo in campo, in campo in tutti i sensi, cioè piantiamo il nostro orzo, lo portiamo a maltare, poi ritorna il malto nella nostra azienda, andiamo in produzione con lo stoccaggio durante tutto l'anno con i nostri orzi, quindi con i nostri malti e c'è un percorso di controllo della qualità molto alto, quindi da quando si va in semina fino alla produzione della birra e all'imbottigliamento, quindi questo è più sinonimo di qualità di questo, quando abbiamo tutto in sede, quindi la filiera diventa cortissima e al circuito è anche chiuso, quindi non solo la produzione ma anche la somministrazione, la somministrazione cercando di coprire il locale con una freschezza di prodotto chiaramente molto alta, però chiaramente andando poi a cercare anche vendite un po' più lontane, sia italiane che internazionali, che comunque servono sia al birrificio ma anche la nostra voglia vera di far conoscere un prodotto marchigiano un po' in giro per l'Italia e per il mondo. Possiamo assaggiare sicuramente una birra molto marchigiana che è la Montelago Lita, è una birra che produciamo per il Celtic Festival di Montelago, è una birra blanche dove utilizziamo il nostro malto e il nostro frumento con coriandolo e una speziatura di cardamomo, quindi è una birra molto rurale e molto marchigiana, altrimenti per chi vuole una sensazione un po' più forte possiamo far assaggiare la Corosipa, che è una delle nostre ultime produzioni, è un IPA, quindi un Indian Pale Ale, dove il luppolo, un altro elemento fondamentale della birra, la fa da padrone. Non dimentichiamo pure l'appuntamento di sabato pomeriggio alle ore 18 con una conferenza, la birra alle materie prime, nuove idee imprenditoriali, dove si spiegherà un po', si cercherà di comunicare soprattutto alle aziende agricole come poter interpretare dei nuovi cammini sulle culture, ad esempio vecchio orzo ma cercarlo con un indirizzo per la birrificazione e la coltivazione del luppolo. A seguito di questa conferenza ci sarà un laboratorio del gusto, quindi una piccola degustazione con abbinamento cibo-birra, dove si cercherà di comunicare il settore qualitativo tra un prodotto che si può mangiare e la birra. Nella giornata domenica la concentrazione sarà massima sulla produzione della birra, quindi verrà fatta una cotta pubblica in piazza dove i ragazzi che producono birra a casa si metteranno proprio in piazza a produrre birra con delle strutture da obbistica, però con più idee insieme cercheranno e sicuramente otterranno un ottimo prodotto, quindi faranno vedere la macinazione, le fasi dell'ammostamento, la bollitura, che dura circa una produzione completa, circa dalle 5 alle 6 ore. Il ricco menù dell'evento si deve anche alla partecipazione dell'azienda Giorgio Mare, tra le prime a credere nell'abbinamento pesce-birra. Abbiamo iniziato questo mio cammino io e mio padre, abbiamo già 10 punti vendita in 5 regioni dell'Italia, importiamo e produciamo prodotti ittici congelati e non. Abbiamo fatto questo abbinamento con l'azienda El Mastio, visto che noi produciamo paella e molti altri prodotti, però abbiamo deciso di fare qualche primi che si abbinano direttamente con le loro stupende birre. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.